Ciao a tutti ragazzi, vi farò vedere questo gioco The Bing of The Isaac Vi farò vedere un piccolo gameplay Ok, come potete vedere sono un bimbo minchia, soprattutto femmina E dai, è veramente bello, questo gioco è molto difficile Non sembra una cazzata, logicamente, ma è molto, molto difficile Ok Ok I zombie senza occhi che piangono a sangue sono una cosa troppo Ok Ok Ma questo gioco è veramente carino Se trovo 5 mi piace nel video che avevo messo E lo metterò in dolo, guardando per così, dai Dovrei avere un nuovo video Beh, io ve lo consiglio questo gioco Ah, e se siete delle persone che spaccano il computer appena muoiono Non ve lo consiglio Qua siamo al boss Bis mostro Ok Questo qua è il mostro più scasso, dovrebbe essere Vai Vai Tu 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 Cazzo Ok, l'ho Ucciso Vedete il potenziamento per il cuore E vabbè dai, ho finito questo gameplay Come potete vedere il primo livello ed è molto Va facile Il primo livello Già il secondo è difficilissimo Vabbè Ehm Vi saluto a tutti quanti Wow, ho fatto questo gameplay tanto per caricare il video Vi saluto a tutti quanti e vi dico Vi saluto Bye Bye Bye